Due parole soltanto sull'ambito politico di riferimento da cui provengo, che chiaramente è il centro-sinistra, questo non è un mistero, e nel nostro gruppo ci sono sia persone che fanno riferimento alla sinistra, persone che fanno riferimento ai verdi, insomma alle forze ambientaliste, persone di centro, persone che fanno riferimento ad azione, persone che fanno riferimento a Italia Viva, quindi persone che fanno riferimento a forze moderate, e quindi un gruppo assolutamente eterogeneo che si è già cementato, perché comunque quello che ci unisce è la voglia di fare qualcosa per la nostra città. Alle persone che si sono avvicinate in questi mesi e che ho contattato, abbiamo contattato per far parte del nostro progetto, non ho chiesto che tessere hanno in tasca, ho soltanto chiesto, ragazzi, io compro idee, anzi, regalate idee alla vostra città, questo è quello che ci interessa.